salve a tutti questa è la seconda parte della guida di piante contro zombie in versione inglese come vi ricordo questa è una guida per computer ma potete usarla sia per computer che per telefonino ds nintendo o tablet qualunque cosa volete voi ok eravamo arrivati al livello 14 continuiamo ok si inizia la seconda parte della nostra avventura abbiamo tutto come vedete partiamo a Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti.